In questo video ti parlerò di un libro molto molto interessante che ti invito a leggere Le sette regole per avere successo di Stephen Covey. Più correttamente è noto come le sette abitudini delle persone altamente efficaci. Si tratta di principi di autogestione e di leadership personale che hanno avuto un grandissimo impatto nel campo dello sviluppo personale e della gestione aziendale. E con breve riassunto di ciascuna abitudine. Sii proattivo. Questa abitudine sottolinea l'importanza di assumerti la responsabilità delle tue azioni e reazioni. Covey incoraggia a puntare sull'iniziativa, sull'azione. Comincia con la fine in mente. Si tratta di sviluppare una visione chiara di ciò che desideri ottenere. Questo implica stabilire obiettivi, avere una direzione chiara della vita personale e professionale. Metti prima le cose più importanti. Questa abitudine si concentra proprio sulla gestione del tempo e delle priorità. Assicurandoti di dedicare tempo ed energia alle attività che sono realmente importanti in linea con i tuoi valori. Ti suggerisco anche il mio corso di time management dove veramente ti aiuto a utilizzare il tuo tempo in maniera estremamente efficace. Pensa in termini di vincere-vincere. Covey suggerisce di adottare un approccio sempre molto cooperativo quando interagisci con gli altri. Cercando delle soluzioni che siano vantaggiose in modo tale che tutti vincano, non solo tu o non l'altro. Cerca prima di capire e poi di essere capito. Questa abitudine riguarda lo sviluppo di competenze comunicative efficaci. Ascoltando veramente gli altri prima di cercare di esprimere il tuo punto di vista, quindi praticare l'ascolto attivo. Crea sinergia. Covey incoraggia a lavorare in maniera collaborativa con gli altri per ottenere dei risultati che non sarebbe possibile ottenere se lavorassi da solo. Sfruttando proprio le diverse abilità e i punti di vista. Affila la lama. Quest'abitudine riguarda l'autorinnovamento, l'autocura, enfatizzando proprio l'importanza di bilanciare e rinnovare regolarmente la propria energia fisica, mentale, sociale, emotiva e spirituale. Queste abitudini sono intese come una guida per lo sviluppo personale e professionale, offrendo un approccio olistico per raggiungere l'efficacia e il successo nella vita. Andiamo a vederle una per una. La prima abitudine, sii proattivo, è fondamentale nel modello di Stephen Covey e si concentra sull'importanza dell'iniziativa personale e della responsabilità. E se è proattivo significa riconoscere che siamo responsabili delle nostre azioni, delle nostre reazioni, attenzione, indipendentemente dalle circostanze esterne. I principi chiavi della proattività sono la responsabilità personale, riconoscere che le proprie scelte sono la principale determinante del risultato della nostra vita. Iniziativa, non aspettare che le cose accadano, ma prendere l'iniziativa per fare subito noi stessi cambiamenti e miglioramenti. Focalizzazione sulla sfera di influenza, quindi concentrarci su ciò che possiamo controllare o influenzare, piuttosto che preoccuparci di ciò che è al di fuori del nostro controllo. Voglio farti un esempio pratico, un esempio pratico di persona estremamente proattiva. In un contesto familiare una persona proattiva, per esempio, può riguardare la gestione delle finanze, come gestisce le finanze domestiche. Immaginiamo una famiglia di padre, madre, due figli, adolescenti, un maschio di 17 anni, una femmina di 15 anni. Il padre si trova ad affrontare difficoltà economica a causa di spese impreviste oppure di una scarsità del reddito. La persona proattiva potrebbe essere applicata in questo scenario. Identifica il problema. Insieme i genitori si rendono conto che le attuali spese superano il reddito e che ciò potrebbe portare a problemi finanziari a lungo termine, come debiti, incapacità di far fronte alle emergenze. I passi proattivi sono la comunicazione. I genitori convocano una riunione di famiglia con i figli per discutere apertamente la situazione finanziaria. Questo è un passo fondamentale per assicurare che tutti siano consapevoli della situazione e pronti a collaborare. Analisi del budget familiare. Si esaminano insieme il budget familiare, quindi cercano di identificare le aree in cui è possibile ridurre le spese. Questo potrebbe includere la riduzione delle spese non essenziali, come abbonamenti a tv, a pagamento, a servizi di streaming o a pasti fuori. La pianificazione finanziaria, quindi stabiliscono un piano per gestire le spese future, inclusa la creazione magari di un fondo di emergenza. Questo può implicare lo stabilire un budget mensile, metodi di risparmio. Cercano di incrementare le entrate, magari considerano dei modi per aumentare il reddito, come cercare nuove opportunità di lavoro, anche per i figli, oppure vendere oggetti che non sono più necessari, valutare, non so, lavori part time. L'educazione finanziaria. Si impegnano quindi nell'educazione della famiglia, quindi non solo il papà ma tutta la famiglia, imparando insieme come gestire meglio le finanze, come poter risparmiare, come poter investire. Un monitoraggio. Monitorare regolarmente i progressi, quindi adattare il piano alle necessità. La situazione finanziaria può cambiare, quindi è sempre importante essere flessibili e pronti ad adattarsi. Attraverso questi passi la famiglia cosa fa? Non solo affronta la situazione immediata, ma stabilisce anche una base per una migliore salute finanziaria a lungo termine. La proattività in questo contesto contribuisce a ridurre lo stress legato alle finanze, ma non solo perché rafforza il senso di unità della famiglia. Dà importanti competenze di vita ai figli. Inoltre può evitare che problemi minori si trasformino in crisi maggiori. Vediamo anche un case study. Un caso studio esemplare di una persona famosa che ha dimostrato proattività nella sua carriera è quello di Oprah Winfrey. Oprah è proprio un esempio eccellente di come la proattività possa guidare al successo personale e professionale. Ostacoli Oprah Winfrey è cresciuto in una situazione di estrema povertà. Ha affrontato numerose sfide durante la sua infanzia, tra cui abusi e discriminazione razziale. Nonostante queste difficoltà ha mostrato una notevolissima determinazione nel superare gli ostacoli. Ha iniziato la sua carriera nei media molto giovane, lavorando in una sezione radio locale durante il liceo. Questo mostrava già la sua inclinazione a prendere l'iniziativa, a sfruttare le opportunità disponibili. Nel suo percorso professionale ha affrontato tanti innumerevoli pregiudizi razziali e di genere, ma invece di lasciarsi scoraggiare ha usato queste sfide come motivazione per eccellere e dimostrare il suo valore. Ha creato un proprio show. La decisione di creare proprio Oprah Winfrey Show è stata una mossa molto proattiva che ha cambiato la sua carriera. Ha trasformato un talk show locale in uno dei programmi più influenti a livello globale. Non si è limitata alla conduzione del suo show. Ha proattivamente espanso la sua influenza fondando la Harpo Production, diventando la prima donna afroamericana a possedere una casa di produzione. Inoltre ha usato la sua piattaforma e le sue risorse per promuovere cambiamenti sociali positivi. Ha investito in progetti educativi, iniziative filantropiche, attività che sostengono le donne e i bambini in difficoltà. I risultati? Beh, la proattività di Oprah Winfrey non solo l'ha aiutata a superare gli ostacoli personali, ma l'ha anche posizionata come una delle persone più influenti e rispettate a livello globale. La sua capacità di anticipare le tendenze, di adattarsi ai cambiamenti, di perseguire i suoi obiettivi è stata cruciale. Il caso di Oprah Winfrey dimostra come la proattività, combinata con la resilienza e l'impegno, possa portare risultati straordinari, nonostante le difficoltà e le sfide iniziali. Comincia pensando dalla fine, è la seconda abitudine di Stephen Covey e sottolinea l'importanza di avere una visione chiara degli obiettivi, dei valori che vuoi raggiungere nella tua vita. Significa sapere dove vuoi andare, per capire meglio dove ti trovi ora e quindi prendere i passi necessari per arrivare dove vuoi arrivare. I principi chiari sono avere una visione chiara, ovvero sapere in maniera chiara quali sono i tuoi obiettivi, cosa vuoi ottenere nella vita personale e professionale. Valori, principi, assicurarti che le azioni, le decisioni che prenderai siano allineate con i tuoi valori fondamentali. Pianificare, utilizza questa visione, questi valori per guidare la pianificazione e la definizione dei tuoi obiettivi. Ad esempio, in un contesto personale, cominciare pensando dalla fine potrebbe significare stabilire obiettivi di vita come avere, che so io, una famiglia felice, raggiungere una sicurezza finanziaria o contribuire positivamente alla società. Quindi si tratta poi di prendere decisioni quotidiane che supportino questi obiettivi a lungo termine. In un contesto professionale potrebbe significare arrivare ad avere una carriera ben definita oppure obiettivi aziendali ben chiari. Per esempio, se io ho un imprenditore potrebbe avere come visione quella di creare un'azienda che non solo sia redditizia ma che abbia anche un impatto sociale positivo. Come caso studio vediamo quello di Walt Disney. Walt Disney è un esempio emblematico di qualcuno che ha vissuto secondo il principio di cominciare con la fine in mente. La sua visione era quella di creare un luogo di gioia e di ispirazione per tutte le età. Disney aveva una visione chiara fin dall'inizio. Voleva creare un mondo di intrattenimento che fosse diverso da tutto ciò che esisteva all'epoca. Questa visione includeva film di animazione, un parco a tema e altre imprese creative. La visione di Disney era profondamente radicata nei suoi valori personali di creatività, di innovazione, di perseguimento dell'eccellenza. Ogni decisione e progetto intrapreso da Disney era in linea con questi valori. Incontrò naturalmente numerosi estacoli lungo il cammino, tra cui fallimenti finanziari, critiche continue. Tuttavia rimase sempre fedele alla sua visione e continuò a perseguirla anche quando sembrava irraggiungibile. Il culmine della sua visione è stata l'apertura di Disneyland nel 1955, che ha incarnato pienamente la sua idea di un luogo, il luogo più felice sulla Terra. Questo parco a tema non era solo un'innovazione nel campo dell'intrattenimento, ma anche una realizzazione tangibile della visione di Disney. La visione di Disney continua a influenzare l'industria dell'intrattenimento, della cultura popolare, anche molti anni dopo la sua morte. Cominciare pensando dalla fine è una potente abitudine che guida le persone e le organizzazioni verso il raggiungimento di obiettivi veramente significativi. Il caso di Disney illustra come una visione chiara, allineata con i valori personali, possa guidare a successi straordinari e a un'eredità duratura. Metti prima le cose più importanti e la terza abitudine. Si concentra sulla gestione delle priorità. Quest'abitudine riguarda l'importanza di organizzare e gestire il proprio tempo, le proprie risorse intorno alle cose più importanti nella vita, piuttosto che reagire semplicemente agli eventi o alle richieste più urgenti. I principi chiave sono determinare le priorità, quindi identificare ciò che è veramente importante nella vita, sia a livello personale, professionale o familiare. Gestione del tempo, torniamo a questo, utilizzare il tempo in modo efficace per concentrarsi sulle priorità, anziché disperdersi su mille attività meno importanti o meno urgenti. Equilibrio, quindi trovare un equilibrio tra i vari aspetti della vita, come lavoro, famiglia, salute, sviluppo personale e tempo libero. In un contesto personale mettere prima le cose più importanti può significare dedicare del tempo alla famiglia, agli hobby, anche in mezzo a una settimana lavorativa impegnativa. In un contesto professionale può implicare concentrarsi su progetti che hanno maggiore impatto sulle performance aziendale, piuttosto che disperdersi in compiti minori e quindi anche imparare a delegare. Come caso studio vediamo quello di Warren Buffett. Warren Buffett è uno degli investitori più di successo del mondo. E' un ottimo esempio di qualcuno che ha applicato il principio di mettere prima le cose più importanti. Buffett è noto per la sua capacità di concentrarsi su investimenti che considera di alta qualità a lungo termine, ignorando le distrazioni del mercato e le tendenze a breve termine. Buffett si concentra solo su ciò che conosce meglio e ignora le restanti opportunità di investimento. Questo significa investire in aziende che comprende e in cui vede un valore duraturo. Le decisioni di investimento di Buffett sono guidate da un insieme coerente di principi, che includono la valutazione dell'integrità della gestione, la stabilità finanziaria, il potenziale a lungo termine. Buffett è rinomato per la sua capacità di non lasciarsi distrarre da tendenze speculative, da movimenti di mercato a breve termine. Questa è una manifestazione diretta di mettere prima le cose più importanti, in questo caso l'approccio di investimento a lungo termine. Nonostante la sua enorme ricchezza, Buffett è noto per uno stile di vita relativamente semplice e per il suo impegno nella filantropia, dimostrando un equilibrio tra successo professionale e responsabilità personale e sociale. Oltre ai suoi successi finanziari, Buffett ha lasciato un'eredità di saggezza attraverso i suoi segnamenti e i suoi consigli sugli investimenti, che hanno influenzato generazioni di investitori. In conclusione, l'abitudine di mettere prima le cose più importanti si manifesta non solo nel raggiungere il successo professionale, ma anche nel mantenere un equilibrio sano nella vita. Il caso di Warren Buffett illustra come un focus chiaro sulle proprie priorità possa portare a risultati eccezionali e a un impatto duraturo. Il quarto pensa in termini di vincere-vincere, win-win. La quarta abitudine riguarda proprio lo sviluppo di relazioni che siano reciprocamente vantaggiose. Questo principio implica che in ogni interazione o negoziazione si cerchi una soluzione che sia di beneficio per tutte le parti coinvolte, piuttosto che perseguire un vantaggio personale a scapito degli altri. E vediamo il principio chiave. Mentalità di abbondanza. Credere che ci sia abbastanza successo e opportunità per tutti. Contrapposta a una mentalità di scarsità che vede il successo come un gioco a somma zero. Comprensione empatica, ovvero ascoltare attivamente, cercare di comprendere veramente le esigenze e le prospettive dell'altra persona o degli altri. Soluzioni creative, quindi cercare soluzioni innovative che soddisfino le esigenze di entrambe le parti. In un contesto familiare un esempio di win-win, vincere-vincere, potrebbe essere trovare un compromesso in una decisione che riguarda tutta la famiglia, come, che so io, la scelta di un luogo dove andare in vacanza, che soddisfi gli interessi di tutti i membri della famiglia. In un ambiente lavorativo può implicare il lavorare insieme a un collega per completare un progetto in modo che entrambi possano eccellere e ottenere entrambi riconoscimenti. Come case study, vi porto alla negoziazione del trattato di Camp David. È un famosissimo esempio di vincere-vincere nella storia moderna. Il trattato di Camp David tra Egitto e Israele nel 1978. Questo evento ha mostrato come questo approccio di win-win possa essere efficace anche nelle situazioni più complesse e più cariche di tensioni. Dopo anni di conflitto, Egitto e Israele, sotto la mediazione del presidente degli Stati Uniti, Jimmy Carter, si sono incontrati a Camp David per negoziare la pace. Vediamo la mentalità di abbondanza. Entrambe le parti hanno dovuto superare la mentalità di scarsità che dominava i conflitti passati. Hanno riconosciuto che la pace era più vantaggiosa per entrambi rispetto alla continuazione del conflitto. Carter ha svolto un ruolo cruciale nel facilitare un dialogo empatico, aiutando ciascuna parte a vedere le prospettive e le esigenze dell'altra parte. Il trattato risultato ha fornito delle soluzioni innovative ai problemi territoriali di sicurezza. L'Egitto ha riconosciuto lo Stato di Israele, mentre Israele ha restituito la perisola del Sinai all'Egitto. Il risultato, vincere-vincere. Il trattato ha posto fine a 30 anni di ostilità, dimostrando che soluzioni reciprocamente vantaggiose sono possibili anche nelle circostanze più difficili. L'abitudine di pensare in termini di vincere-vincere, vinco io, vinci tu, incoraggia a cercare soluzioni che beneficiano tutti i soggetti coinvolti. promuovendo delle relazioni positive e durature. Il trattato di Cam David è un esempio storico di come questa mentalità possa essere applicata con successo anche in contesti complessi, portando a risultati pacifici e duraturi. Il quinto, cerca prima di capire, poi di essere capito. Enfatizza qui l'importanza dell'ascolto empatico nelle comunicazioni. Questo principio suggerisce che per costruire delle relazioni solide, prima di cercare di comprendere veramente il punto di vista dell'altra persona, è la parte più importante. Prima di esprimere il nostro, quindi prima voglio cercare di capire l'altro, prima di esprimere il mio parere. I principi chiave naturalmente sono l'ascolto empatico, ascoltare con l'intento non solo di ascoltare con le orecchie, ma di comprendere e non solo di rispondere, di dare subito una risposta, ma di focalizzarsi su ciò che l'altro sta dicendo. Quindi ascoltare con molta empatia, considerare i sentimenti dell'altro che sta parlando, i bisogni dell'altro, il punto di vista dell'altro. Rispondere in modo che l'altra persona si senta ascoltata e compresa. Questo può coinvolgere il parafrasare «Ho capito bene? Mi hai detto questo, questo, questo?» o il riassumere appunto ciò che è stato detto, per assicurarsi proprio di aver compreso perfettamente. La comunicazione efficace è un altro punto fondamentale, dopo aver ascoltato e compreso, esprimere il proprio punto di vista in modo chiaro e rispettoso dell'altro. In un contesto familiare può significare ascoltare attentamente un figlio che sta affrontando problemi a scuola, cercando di capire i suoi bisogni, i suoi sentimenti. In un contesto lavorativo può implicare ascoltare un collega o un cliente che esprime preoccupazioni o problemi, assicurandosi di capire completamente la loro posizione prima di proporre idee o dare un feedback. Come caso studio vediamo Nelson Mandela, l'ex presidente del Sudafrica, leader anti-apartheid, è un esempio eccezionale di qualcuno che ha applicato il principio di cerca prima di capire e poi di essere capito. Durante gli anni dell'apartheid, Mandela ha ascoltato attentamente sia i sostenitori, sia gli oppositori dell'apartheid, cercando di comprendere le loro prospettive, le loro preoccupazioni. Anche quando era imprigionato, Mandela ha fatto sforzi per imparare l'Africans, la lingua dei suoi carcerieri, per comprendere e comunicare meglio con loro. Questo ha dimostrato una volontà di comprendere la prospettiva degli altri, anche in circostanze veramente molto molto difficili. Dopo la sua liberazione, Mandela ha utilizzato la sua capacità di ascolto empatico nelle negoziazioni per porre fine all'apartheid, ha cercato di capire le paure e le preoccupazioni della minoranza bianca, lavorando verso una soluzione che tenesse conto dei bisogni di tutte le parti. Come presidente, Mandela ha continuato ad esercitare l'ascolto empatico, grazie a tutti! risultati migliori di quelli che si potrebbero raggiungere individualmente. Quest'abitudine sostiene che combinando le forze e valorizzando le differenze si possono creare risultati superiori e più innovativi. I principi chiave sono riconoscere e apprezzare le diverse prospettive, le competenze diverse delle persone con cui lavoriamo e crearne una forza piuttosto che un ostacolo. Lavorare insieme in modo costruttivo quindi combinando le forze e le competenze per ottenere obiettivi comuni. Essere aperti a nuove idee, a modi di pensare comunicando in modo efficace per raggiungere una comprensione comune. Come esempio in un ambiente lavorativo significa creare sinergia, formare un team interdisciplinare per un progetto dove ogni membro porta una competenza unica che contribuisce al successo complessivo del progetto. In un contesto familiare può implicare lavorare insieme a un progetto di casa dove ciascun membro della famiglia contribuisce secondo le proprie abilità e secondo i propri interessi. Come caso studio vi porto qui la missione Apollo 11. È un esempio storico di crea sinergia. La missione Apollo 11 della NASA ha portato il primo uomo sulla Luna nel 1969. Questa impresa rappresenta una sinergia notevole tra scienziati, ingegneri, astronauti e molte altre persone. C'era un team interdisciplinare, ha coinvolto la collaborazione di migliaia di individui con diverse competenze, inclusi ingegneri aerospaziali, scienziati, medici, astronauti. C'era un obiettivo comune. Tutti i membri del progetto Apollo avevano un obiettivo comune molto chiaro, far atterrare un uomo sulla Luna e riportarlo in sicurezza sulla Terra. Questo obiettivo comune ha fornito un focus che ha unificato tutti e tutti gli sforzi. Innovazione attraverso la diversità. Ogni sfida incontrata nel progetto Apollo richiedeva delle soluzioni innovative. La diversità di competenze e di prospettive all'interno del team ha permesso di generare idee creative, soluzioni efficaci a problemi complessi. La comunicazione tra i diversi team, i livelli gerarchici era fondamentale per il successo della missione. Questo ha richiesto un elevato livello di trasparenza, fiducia e apertura agli input di tutti. Il risultato storico? Beh, lo sappiamo. La sinergia creata all'interno del progetto Apollo ha portato a una delle più grandi sfide e traguardi dell'umanità, dimostrando che i risultati eccezionali sono possibili quando persone con diverse abilità e diverse prospettive lavorano insieme a un obiettivo comune. Crea sinergia dunque è un principio potente per raggiungere risultati straordinari. La missione Apollo 11 è un esempio perfetto di come la collaborazione, il rispetto delle diversità, la comunicazione possono combinarsi per superare sfide imponenti e raggiungere obiettivi che all'inizio sembrano impossibili. L'ultimo affila la lama, l'ultima abitudine di Covey o affila la sega, trovate indifferentemente ambedue i termini. Sottolinea l'importanza del continuo miglioramento personale, del rinnovamento in tutte le dimensioni della nostra vita, fisica, sociale, emotiva, mentale e spirituale. Quest'abitudine ci ricorda che per mantenere, migliorare la nostra efficacia dobbiamo sempre equilibrare e rinnovare costantemente le nostre risorse, la nostra energia, la nostra salute. I principi chiave sono rinnovamento fisico, quindi mantenere la salute fisica attraverso l'esercizio, la nutrizione adeguata e il riposo sufficiente, rinnovamento sociale, emotivo, costruire, mantenere relazioni positive, sviluppare empatia, coltivare un senso di connessione con gli altri, rinnovamento mentale, impegnarsi continuamente nell'apprendimento di cose nuove, nella lettura, nei corsi, nella riflessione critica, nella pianificazione. Rinnovamento spirituale è dedicare tempo a valori personali, a credenze personali che possono includere anche ipotesi spirituali come meditazione, preghiera, servizio alla comunità, volontariato, altre pratiche che forniscono uno scopo e un significato. Come esempi pratici nel fisico una persona potrebbe fare jogging regolarmente o partecipare a yoga per mantenersi in forma, a livello sociale potrebbe partecipare a incontri sociali, passare del tempo di qualità con persone che abbiano interessi comuni o anche nuovi interessi, impegnarsi a livello mentale in corsi di formazione, leggere e così via. Come case study, come caso studio, vi porto il Mahatma Gandhi. Illustra bene l'abitudine di affilare la lama, leader del movimento indipendentista indiano, pioniere della filosofia della non violenza. Gandhi è un esempio straordinario di come il rinnovamento personale in tutte le sue dimensioni possa guidare a un'influenza profonda e duratura. Gandhi era noto per il suo impegno verso la semplicità, l'autosufficienza, faceva pratiche che includevano la filatura del cotone, praticava il vegetarianesimo. Queste attività non solo erano in linea con i suoi principi etici, ma contribuivano anche al suo benessere fisico. In quanto al rinnovamento sociale, Gandhi si impegnò attivamente nel costruire e mantenere relazioni basate sul rispetto reciproco, l'empatia, la compassione. Lavorò instancabilmente per promuovere l'armonia sociale, la pace, per superare le divisioni di casta, di religione, di cultura. La sua leadership nel movimento per l'indipendenza indiana era profondamente radicata nella costruzione di una comunità, nell'unire le persone a una causa comune. Gandhi era poi un appassionato lettore, un pensatore critico. La sua filosofia, le sue strategie furono influenzate dalla lettura di testi di varie tradizioni religiose e filosofiche, così come di autori occidentali su politica, etica, non violenza. Si dedicò costantemente all'apprendimento continuo, adattando le sue strategie politiche sociale in base a situazioni e agli apprendimenti. La spiritualità poi era un aspetto centrale della vita di Gandhi. Le sue pratiche quotidiane includevano la preghiera, la meditazione, il digiuno. Gandhi vedeva il suo lavoro politico e sociale come un'estensione della sua pratica spirituale. La sua filosofia di non violenza, aimsa, e verità, satyagraha, erano profondamente radicate nelle sue convinzioni spirituali. In conclusione Gandhi dimostra come l'abitudine di affila la lama possa essere applicata per raggiungere non solo il successo personale, ma anche per influenzare positivamente il mondo circostante. La sua vita è un esempio di come il rinnovamento personale in tutte le sue dimensioni abbia contribuito a una leadership efficace, a un impatto significativo. Ecco il libro. Nel corso di questo video abbiamo esplorato le sette abitudini delle persone altamente efficaci di Stephen Covey, un modello di autosviluppo, di leadership, che ha veramente ottenuto un riconoscimento globale per il suo approccio olistico, pragmatico, al successo personale e professionale. Abbiamo visto come ciascuna abitudine rappresenti non solo un principio di autogestione, ma anche un approccio alla vita, che può portare veramente un impatto significativo e duraturo. Attraverso una varietà di casi studio, abbiamo capito come figure storiche e contemporanee abbiano applicato queste abitudini per raggiungere risultati straordinari e superare le loro sfide. Le sette abitudini quindi offrono un percorso per il nostro sviluppo personale e professionale che va oltre il semplice successo, perché ci danno una serie di principi positivi e dimostrano che l'efficacia personale può essere una forza veramente potente per il cambiamento. Mi auguro che questo video, anche se è un po' lungo, ti sia piaciuto, che tu sia riuscito ad arrivare alla fine e se lo hai ritenuto utile metti un mi piace, condividilo e scrivimi nei commenti che cosa ne pensi e come tu hai applicato questi principi nella tua vita.